qui live sulla ricerca di Enrico, sono contentissimo infatti vi voglio subito ringraziare perché ho ricevuto un sacco, ma un sacco, ma un sacco di complimenti per la scorsa live ok, lo dicono tutti gli youtubers, questo è vero ma veramente un sacco di gente mi ha fatto i complimenti e è stato veramente bello perché io mi metto davanti a uno schermo e parlo a rota libera per una mezz'oretta ma senza nessun copione, senza niente, proprio tete a tete, detto la francese quindi sono molto molto contento di questa cosa e sono molto felice, molto felice e vi ringrazio vi ringrazio perché lo faccio per voi, no non è vero lo faccio perché mi diverto e se diverte anche voi tanto meglio allora, prima di iniziare introducendo il tema della serata vorrei parlarvi di una cosa io nella scorsa live parlavo di Antonella Elia, a tale quale show definendo la matta come un cavallo io ho sempre usato questo termine in senso affettuoso cioè matto in senso affettuoso, fuori di testa cioè, ma tu sei fuori di testa, una cosa così e quindi, se mai Antonella Elia vedrà il video precedente spero non si offenda e se si offenda se si offende non sbagliamo i tempi verbali non ho nulla contro di lei ed era un complimento, anzi, una lode sul suo mostrarsi appieno nella sua personalità in tv abbiamo già due spettatori ciao Emanuele Liberani, che bello sentirti sempre una gioia guarda sono sempre contento, grazie allora due spettatori, due mi piace perfetto, allora io direi ciao ciao Francesco ciao allora io direi subito di andare a cominciare perché questa volta ho scelto un titolo particolare l'ho chiamata la live sorprese speranze ed illusioni perché sostanzialmente eh sì sicuramente mi ha visto Elia scrive Emanuele Liberani sicuramente mi segue sempre un saluto a Antonella Elia che mi segue sempre allora sorprese speranze ed illusioni perché? perché gli argomenti in questo live rientreranno in ognuna o anche in più delle suddette categorie saranno sempre argomenti di attualità ma ci sarà ancora una sorpresa speciale più o meno che vedrete dopo 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 allora iniziamo subito ieri sera domenica 30 settembre anno del signore 2018 sono andato a vedere gli incredibili 2 ciao ciao mio figlio Pietro ha visto che mio figlio off off c'è stare questi sono mitomani che scrivono ma c'è stare ciao off n'egit figlio mio allora e che cazzo sto dicendo pure la ridarella vabbè lascia stare 4 spettatori attuali grazie mille allora mettete anche il mi piace mi raccomando allora dicevo sono andato a vedere al cinema al cinema Don Bosco di di Cusano Milanino un cinema bellissimo fra l'altro questo va detto e ho visto gli incredibili 2 ok ciao Luca che in realtà è Francesco allora gli incredibili 2 parliamone io sono un grandissimo fan degli incredibili il primo 2005 uscito nel 2005 è uno dei film d'animazione che preferisco è anche uno dei miei preferiti in assoluto veramente azione umorismo c'è Edna Mode che cavolo volete di più ecco perché quando ho sentito di un seguito mi sono preoccupato perché la Pixar i seguiti non sono molto ferrati certo Toy Story va bene ma in realtà un seguito solo ha fatto male alla ricerca di Dory un obbligo in confronto al primo in sé per sé carino ma mi ha scottato quell'esperienza lì quindi non volevo assolutamente ripetessero l'errore precedente e questa era la mia speranza e poi ho visto il trailer il trailer era veramente non prometteva nulla di buono poi ho visto il film film davvero bello molto molto carino non meglio del primo però attenzione attenzione perché perché non è meglio del primo anzi facciamo perché è bello prima prima le cose belle sì dai allora nota a margine sono cambiati molti doppiatori i doppiatori di tutti i personaggi principali tranne forse di Violetta sapete tutti che sono incredibili i nomi dopo il scontato li sappiate se non li sapete googlate gli incredibili e basta ah spoiler 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 detto una volta non ripeto più come dicevo tranne Violetta cambiate tutti i doppiatori e questa è una cosa che a me di solito fa storcere il naso proprio a 360 gradi perché perché l'affezione a un personaggio e in particolare un personaggio di un film d'animazione viene anche dal doppiaggio storico tipo i simpson io non riesco più a guardarli da quando in italiano da quando è morto Tonino a colla non è più la stessa cosa esempio magno però qui sono stati anche furbi perché ok a 13 anni di distanza la grafica è cambiata si è evoluta quindi sono personaggi con una grafica nuova praticamente con voci nuove ma la cosa interessante di più più di tutte è che i personaggi sporgono nuovi tratti del loro carattere quindi sono personaggi nuovi in tutto tondo e non stona il doppiaggio dei personaggi principali quelli che sono cambiati dal primo film è una cosa molto interessante questa perché sono gli stessi ma sono nuovi e questo quindi mi porta anche la scrittura dei personaggi che nella famiglia degli incredibili appunto è molto molto buona perché rimangono se stessi ma si evolvono cambiano Elastigirl capisce che può come dire stare lontano da sua famiglia che anche suo marito può occuparsi dei loro figli che Mister Incredibile capisce appunto che anche lui può essere un padre di famiglia Violetta ha le prime esperienze amorose Flash e in generale tutti i ragazzi si misurano anche contro i cattivi ci arriveremo sempre restando sui doppiaggi ci sono molti doppiatori famosi nel nel film c'è Orso Maria Guerini sconosciuto ai più ma se vi dico Baffo della Birra Moretti è quello lì Baffo storico della Birra Moretti che doppia la gente Rick credo sia un agente federale che lavora con supereroi lui è bravo niente da dire una particina così poi c'è Ambrangiolini che diremo più avanti perché quello è il vero ci arriveremo e poi c'è Bebevio anche lei ne parleremo dopo c'è Tiberio Timperi che doppia un Anchorman e ho dimenticato qualcuno ah sì ovviamente c'è Amanda Lier che doppia Edna Mode ma mi sembra proprio scontato cioè se non chiamavano la Lier che ha fatto un lavoro certosino sia nel primo che nel secondo film è veramente uno scandalo sarebbe stato uno scandalo ma non è andata così quindi sono contento 4 mi piace 3 spettatori ottimo allora e quindi a proposito di su Edna Mode il personaggio pochi minuti ma buoni buoni utili alla trama e il personaggio fa sempre ridere quindi io sono molto contento è sempre un mito Edna Mode non ci posso fare niente ok dunque allora il film è bello le scene d'azione hanno pensato ehi siamo in un film di animazione possiamo fare tutte le scene d'azione che vogliamo senza spendere milioni di effetti speciali e far uccidere delle comparse per scene impossibili facciamolo e l'ha fatto ed è bellissima questa cosa cioè le scene d'azione mozzafiato che non potresti mai fare nella vita reale dovresti pagarle milioni e milioni di 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 baiocchi mille effetti speciali treni aerei macchine volanti le comparse uno viene decapitato da una lancia piovuta dal cielo mi è caduta la biro mannaggia e quindi benvenga questa cosa cioè le scene d'azione sono veramente incredibili ma da io sono sbalordito io ero così ma che figata cioè ne voglio ancora e diciamo Enrico non sono Francesco quindi questo è Luca che non è Francesco Luca però rimani qui sul live mi raccomando infatti siamo a 4 spettatori si è giunto Luca appunto fra noi tu che sei sceso fra noi cosa sei sceso a fa niente cazzate a parte continuiamo allora e quindi tutto bello nome straordinario per la live grazie Luca quindi quindi tutto bello tutto giusto siamo tutti amici tutti felici no e no e no perché qui qui cascalasino qui si rompe l'uovo qui vi volevo non è tutto bello perché hanno sbagliato una cosa piccolina il cattivo anzi la cattiva perché spoiler 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 la cattiva è la sorella del tizio del coso di quello che propone di fare i diritti di immagine supereroi perché i supereroi sono illegali e questo tizio vuole fare una campagna immagine per farli tornare legali ok e la cattiva intanto è scontatissimo si capisce che lei è questo vabbè vabbè posso passarci sopra ok ma il piano di questa cattiva è veramente orribile cioè ma che cattiva allora praticamente i supereroi sono illegali allora io cosa faccio aiutami faccio fin di aiutare mio fratello a farli ridiventare legali poi però li metto in cattiva luce così tornano illegali ma non puoi non fare un cazzo di niente così rimangono illegali e hai raggiunto il tuo scopo mannaggia martì no chiedo scusa alle martine mi hai scappato chiedo scusa a tutte le martine che mi seguono e che mi seguiranno negli anni a venire e cioè ma che piano è ma che a parte che è odiosa come cattiva ok un cattivo deve essere odioso ma per esempio Crudelia Demon ok è un essere orribile per carità di dio ma non è odiosa è piacevole tra virgolette come cattiva no lei è solo odiosa questa qui questa qui cioè veramente quando il suo piano va in malora a me veniva da fare un suca al cinema perché ero in sala al cinema veniva da fare un suca veramente ma l'ho fatto veramente fra l'altro ok criticatemi pure ma è veramente odiosa quella lì oltre ma non so ok e sul doppiaggio di questa cattiva ripetiamo una cosa qui mi sono appena reso conto di una cosa non voglio qui i toni si alzano sì ma qui si sta parlando serenamente e non si stanno esprimendo giudizi anzi si esprimono giudizi ma personali qui si è il massimo rispetto per chiunque grazie Emanuele Iverani coraggio dai stiamo uniti si è il massimo rispetto per chiunque e quindi io i giudizi che esprimo sono i miei pensieri poi magari qui mi lascio un po' andare ma perché questo è l'ambiente quindi le polemiche lasciamo da un'altra parte che qui non si fanno polemiche volontarie qui si dicono le cose io chi sono io sono uno che si mette davanti a un cellulare e dice la sua su delle cose poi il modo è discutibile ok ma qui stiamo andando tutti io sto andando a braccio quindi questo dico questo questo video lo starò per problemiche future comunque il doppiaggio di questa cattiva a chi l'hanno affidato il doppiaggio ad Ambra Angiolini a me l'Angiolini piace da morire qui lo dico e qui lo dico mi piace moltissimo lei mi piace veramente tanto un'attrice che mi piace simpatia conduttrice ma anche qui è stata brava ma non si capiva perché sembrava un po' che avesse del cotone in bocca non so ma l'ha fatto probabilmente lei ma l'effetto probabilmente ha voluto avvicinarsi alla versione originale ipotizzo ma è uscito qualcosa di strano ma non c'è nessun problema assolutamente però diciamo che non è la sua migliore per farma scuola lì c'è a dire che il personaggio è scritto veramente de mierda e quindi posso capire che le battute dette comunque dette con qualunque voce non siano non rendano comunque lo posso capire quindi se Amba guarderà mai questo video non è stato la tua migliore performance ma se può consolarti è scritta veramente da cani perché è un cattivo così imbarazzante ha rovinato non dico il film ma a buona parte perché il film è bello cioè veramente il film è davvero bello tolta un'altra fra di scrittura l'inutività quasi totale del personaggio di Pietro Bebevio che è un'altra supereroina che apre i vortici chiude i vortici cioè apre i vortici chiude i vortici cioè praticamente questa penna è qui lei apre un vortice ci finisce dentro ed è ancora qui esempio stupido con tanto di miniatura che spiega quindi qualunque allusione non è assolutamente voluta sappiatelo e quindi gli Incredibile 2 è bello non è come il primo però è bello sì quel fatto bene che mantiene lo spirito del primo ma anche anzi fai guardo i personaggi quindi io spero che riaprano a questo punto la saga perché se tutti i film sono fatti così e magari anche meglio perché perché quel cattivo lì proprio mi è rimasta proprio qui qui in mezzo e mi potete dire anche calmati però mi spiace ma mi sono davvero arrabbiato perché non puoi fare un film tutto bene nei film però il cattivo è una delle cose più importanti scusami ma il Batman senza il Joker ma per esempio il Capitano America senza il testio rosso Avengers Infinity War senza Thanos ma cosa sarebbero stati i cattivi sono importanti no rispetto ai cattivi scusami eh non vi rende giustizia questo cattivo qui mi spiace per Ambra mi spiace per la Pixar mi spiace per tutto ma sto cattivo qui faceva veramente schifo qui lo dico e qui lo dico quindi l'Incredibile 2 promosso ma con debito in cattiveria cattivo in scrittura del cattivo ok quindi parlato di questo siamo a 3 spettatori e 4 mi piace buono dai buon risultato allora era più bella la prima live questo sempre così sempre più bella la prima in un'academia lo dico allora oh 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 scusatemi oh 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 ok ok ho un problema tecnico perché si sta scaricando la batteria del cellulare se io faccio una cosa per prendere il caricabatteria ho un problema che pirla il caricabatteria è qua accanto a me non me ne ho accorto bene così quindi quindi mentre trovo una presa mentre trovo una presa ma quale l'oggetto proseguiamo con gli argomenti ok giuro io non volevo fare tutto questo mi sto rendendo ridicolo lo so perdonatemi perdonatemi davvero ma è così è così cosa dobbiamo fare sono povero allora quindi attaccato ok dovrebbe essere in carica così o meno no no perché la figura barbina peggiore la facevo se si piantava durante la live quindi tutto sfumato mi è andata anche bene quindi come batte no ok tiene sta tenendo sta tenendo d'accordo vai quindi passiamo al prossimo tema della puntata allora è uscito ladies and gentlemen il trailer di Creed 2 Creed per chi non lo sapesse lo spin off di Rocky per chi non sapesse cosa è Rocky un pugil italiano sfida il campione dei pesi massimi perde ma diventa l'idolo del popolo poi questo campione diventa il suo miglior amico e mentor e allenatore poi questo suo amico mentor e allenatore fa un incontro con un russo e poi muore altri tre film che sono importanti per questa spiegazione poi qualche tempo dopo nel precedente Creed è nato per combattere il figlio di questo di Apollo Creed cioè l'amico mentor campione di Rocky va a cercare Rocky per farsi allenare affronta un incontro anche lui col campione che li perde ma diventa il popolo che fantasia Creed a me è piaciuto molto mi piace la saga di Rocky mi piace Sylvester Stallone e quindi ora è la cosa interessante di Creed 2 è interessante perché perché in questo film il figlio appunto di Apollo Creed quindi quello che è molto sotto il russo affronterà il figlio del russo cioè di Ivan Drago cioè il russo cioè Victor Drago figlio del russo cioè figlio di Ivan Drago che ha il mercato mio padre e quindi loro due faranno una rivincita quasi ma non è fra loro due perché Ivan Drago allena ancora il figlio e Rocky allena ancora il figlio di Apollo Creed e Rocky ha battuto Ivan Drago già una volta e Ivan Drago ha ucciso il miglior amico di Rocky quindi è uno doppio scontro fra i figli e fra i padri tra virgolette 5 mi piace perfetto allora è una roba veramente io non vedo l'ora che esca cioè la mia speranza è che sia una figata perché ma probabilmente quasi probabilmente lo sarà perché sul serio io sono veramente veramente curioso Creed 1 mi era piaciuto come ho detto quindi sono veramente veramente interessato lo vedrò sicuramente questo è il mio pensiero sul trailer tornando un secondo su Gli Incredibili 2 Gli Incredibili 2 rientra forse in tutte e tre le categorie sorpresa speranza ed illusione la mia speranza che non fosse una merda sia esaurita la mia sorpresa perché non è una merda la mia delusione perché in parte è anche un po' una merda per certe cose per certe cose è cattivo quindi ok oggi live breve quindi oggi live relativamente breve per un'altra dura secondo me un sacco ok allora abbiamo due spettatori attuali 5 mi piace perfetto mi seguite anzi per meno fortuna dei primi quindi allora parliamo di un altro trailer che è uscito è uscito Disobedience allora film diretto da Sebastian Leo regista cileno fresco fresco di Oscar vinto con Una Donna Fantastica miglior film straniero 2018 di Oscar che non ho visto non ho visto nessun suo film ma questo film ha un particolare che mi interessa c'è Rachel McAdams per chi non sapesse che Rachel McAdams si vada a guardare Sherlock Holmes quello di con Robert Downey Jr fa la Femme Fatale ha fatto la fidanzata di Doctor Strange in Doctor Strange film di Doctor Strange ha fatto Il Buongiorno del Mattino una commedia veramente carina la faceva una produttrice televisiva non so parlare e ha fatto Il Caso Spotlight nominata all'Oscar per quel ruolo nomination meritata e questo credo sia forse un film che possa farle anche ambire la nomination la prima del film Rachel Weisz alt'attrice premio Oscar molto brava che uscirà presto anche con La Favorita mi sembra fosse in concorso a Venezia La Favorita si in concorso a Venezia interpreta questa donna che ritorna in una comunità ebraica in cui è cresciuta dopo la morte di suo padre scopriamo che è stata bandita nel trailer di tutto questo qui non c'è nessuno spoiler qui e non capiamo perché sei stata bandita così poi vedere Rachel McAdams che è la moglie di questo non si capisce se è suo fratello o se è il capo della comunità non so e poi capisco che si capisce che le due donne hanno una relazione e la comunità ebraica lo proibisce è molto interessante questa cosa perché che io sappia sono stati fatti film che esplorassero il lato come si dice più interno di una comunità ebraica americana quindi molto interessante come cosa le due attrici sembrano incredibilmente in parte quindi sono davvero davvero curioso di vedere questo film perché perché dico sempre davvero davvero veramente veramente oggi non viene bene comunque quindi dicevamo le attrici sembrano davvero in parte e sono curioso dirò il film cercherò assolutamente di vederlo e spero che possa portare una nomination d'oscar per la mccadams perché è un'attrice molto molto brava che a me piace moltissimo scusate la ripetizione e molto interessante grazie madonna e liberani molto interessante l'ultima academic adesso l'appoggio qui così non cade più quindi parliamo adesso a disobbedienza che entra nella categoria speranze perché speranza che Rachel McAdams si vedi l'oscar un giorno e speranza che il film c'è comunque carino promette di esserlo poi adesso un momento a cui io tengo molto allora se mi scrivete due spettatori provate a scrivermi con un commento se indovinate di cosa sto per parlare così giusto per gioco scrivete un commento non voglio fare la figura di avervelo chiesto siete in tre spettatori scrivete un commento indovinate di cosa sto per parlare dai chi vince gli do un premio che decido dopo dai un commentino per favore uno solo uno un commentino che figuraccia ragazzi l'unico youtuber che chiede un commento in una live e il commento non arriva va bene comunque allora il premio rimane qui davanti a me non vi dico che cos'è e ve lo dirò un'altra volta allora qualcun altro lo vincerà chissà 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 quindi niente commenti quindi niente 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 vabbè comunque faccio un preambolo abbastanza lungo così mi permetto di scrivere tanto non scrive nessuno quindi allora questa sarà la prima volta è una live che non parlerò su due live la prima volta ci deve essere per forza che non parlerò di un argomento di attualità molto stretta ma parlerò di una cosa mia proprio di una mia personale cosa non di attualità già un argomento piuttosto vecchio e quindi è una cosa a cui tengo molto mi fa piacere condividela con voi che siete i miei followers su youtube allora come molti di voi ma anche molto pochi di voi sanno a me piace molto Diabolik è uno dei fumetti che preferisco e credo che occupi un posto di rilievo nel gota dei fumetti italiani e qui si intercciano due categorie le sorprese e le delusioni perché parlo di due albi uno è una sorpresa cinque spettatori quattro come l'ho detto e cinque è due albi uno una sorpresa ma con basse speranze è un'altra una delusione ma con speranze molto molto alte quindi iniziamo sempre a quelle sorprese questo non mi riuscire a leggere il titolo perché è lo specchio è trovate quel rifugio primo maggio 2018 quindi è uscito quest'anno soggetto di Mario Gomboli di Gomboli e Pasini sceneggiatura di alta riva disegno dei cerveglieri montori o meratico petì copertina di Matteo Buffagni allora perché perché questo albo ha una copertina molto Giussani non Redaeli Emanuele Verani una copertina molto quasi anonima quasi da film di exploitation anni 70 cioè che poi non c'entra quasi niente con il resto dell'albo cioè c'entra poco non è che molto immediata come copertina e invece non solo si rivela un thriller godibilissimo con anche diciamo un po' di non proprio satira politica ma diciamo che ci sono molti parallelismi con alcuni personaggi odienni non faccio nomi per cui non si parla di politica se non decido io io ho deciso di no ma la cosa più interessante è che allora ovviamente spoiler ma spoiler allora in sostanza Diabolic pridia una cantante famosa Sandra e solo che Eva non sa dove sia non sa dove trovarlo quindi cosa fa fa una foto all'edificio dove si trova e andiamo quindi sul testo allora vediamo un po' qui Eva dice ho avuto un'idea e spero che funzioni usare i social network per prima cosa devo crearmi un profilo un falso profilo poi pubblicherò lo stesso posto sulle pagine facebook twitter instagram dei fan di Sandra ecco questo è interessante perché Diabolic utilizza i social network ok è scontato ma pensiamoci un fumetto con 56 anni di età suonati che non li dimostra affatto però sono comunque 56 anni per la prima volta in nostra storia cita i social network cioè si affaccia al mondo di oggi dichiaratamente non punta a sfidare il tempo con questa storia punta ad essere oggi ok cioè non riesco non mi spiego non mi spiego bene diciamo così dimostra di essere ancora al passo con i tempi perché usa i social e li usa nella storia in un modo originale e li usa a funzionalità della storia e questo lo apprezzo molto quindi questa è stata una sorpresa davvero e veramente lo rilego anche con piacere questo qui perché trovate quel rifugio il rifugio di Sandra il rifugio che lei si è costruita nella sua testa di tra ricatti minacce arrivismo ma comunque non è questa la sede per parlarne e perché non voglio raccontarvi tutto l'albo Luca Fumagalli è tornato Francesco e la schizofrenia fa brutti scherzi a volte un giorno credi di essere Luca e il giorno dopo credi di essere Francesco ma comunque e passiamo a una delusione di Diabolik abbiamo parlato di Occhi prima la morte in pugno di Diabolik in grande formato con l'ana in grande Diabolik soggetto di Mario Grombo di Tito Faragi sceneggiatura di Tito Faragi disegni di Giuseppe Palumbo disegni di prologo ed epilogo di Sergio e Paolo Zaniboli riposo in pace Sergio e Zaniboli copertina di Giuseppe Palumbo colore di copertina Luca Bulgaroni retini di Leonardo Vasco lettering di Carla Rusconi allora in questo albo diciamo così Diabolik si infiltra in una palestra di pugilato anzi mi leggo direttamente la sinossi il giovane Diabolik ignora ancora tante cose sulla criminalità organizzata di Clervi cioè la città dove si svolge la storia ma nella palestra di pugilato frequentata da giovani sbandati sente puzza di bruciato e vuole vederci chiaro allora così prometteva una storia a un misto fra Diabolik e Rocky wow che figata mi son detto ma leggendolo diciamo una cosa non noioso ma fritoloso cioè anzi lento in alcuni punti speciale inizio poi subito e il colpo di scena finale non ti è stato presentato a dovere quindi non riesci a godertelo appieno non so se capite di cosa sto parlando ma si scopre che tutta la storia è un ricordo di Diabolik come cade spesso in questi casi ma che tutto il ricordo è funzionale a spiegare perché Ginko non partecipa alla scorta per un trasporto valori e questo ricordo è stato promesso da un altro poliziotto che voleva organizzare il trasporto per poter rubare tutto ma Diabolik abilita Ginko e si ruba tutti i soldi sinceramente è un po' potremmo trovare un modo migliore per contare tutto questo però Dupalle insomma che da tecnici ma non mi le vengono però comunque regala dei bei momenti anche se io mi aspettavo molto molto di più da questo albero e comunque il personaggio di Sonia Yanez andrebbe approfondito davvero perché la spacciatrice di Drogra è una persona di cose più interessanti mi si vede pochissimo ma è davvero davvero interessante e io spero faccio un appello ai dirigenti a Storina di riproporlo magari con una storia spin off però non mi ascolteranno ma sarebbe un mio personalissimo sogno comunque questo era l'ultimo argomento di cui volevo parlare ci sono due spettatori è stata una live molto interessante davvero sarà bello discuterne anche di persona se volete se mi incontrate mentre ho deciso che continuare questa cosa del gioco nei commenti live perché mi diverte e qui pronto un bel premio per chi per chi vincerà ho anche un premio di consolazione dai quindi credo che dalla prossima live proporò questa cosa un'anticipazione bene allora qui abbiamo finito meno fervore l'altra volta devo dire oggi siamo più sul sornione ciao Enrico ciao sei Luca o Francesco stavolta non si capisce ciao Luca ciao Francesco grande live grazie grazie Luca barra Francesco grazie dai molto sommato sono soddisfatto anch'io Francesco sei Francesco molto bene allora allora io vi saluto con Garbo oggi mi sento proprio molto rilassato vi saluto proprio rilassato rilassato easy e busy come si diceva una volta e vi do appuntamento ad una prossima live rani ciao ciao grazie a tutti